Silvia Preti, responsabile per i commercializzati Italia allo stand Beretta, Sacco e Tica, cosa ci offre quest'anno di interessante? Sacco e Tica sono da tempo entrati nel gruppo Beretta e offrono un'ampia gamma di carabine per la caccia e per il tiro. Sono carabine bolt action con calciatura sintetica o in legno per gli amanti dello stile classico. Da quest'anno abbiamo cercato di rafforzare soprattutto la sinergia tra le aziende del gruppo, ad esempio vediamo qui una bellissima carabina Sacco con canna stainless alla quale abbiamo abbinato la novità delle ottiche Burris dell'ultimo anno e mezzo, il Burris Ballistic Laser Scope per la caccia dotato di telemetro laser. Questo costituisce un pacchetto molto esclusivo per il cacciatore e soprattutto per gli specialisti di caccia di selezione. Cerchiamo quindi di accontentare al meglio i nostri clienti offrendo un pacchetto completo. Naturalmente i calibri sono tantissimi, si va dai piccoli 222-223 fino ai grandi calibri e quest'anno soprattutto con lo sviluppo del progetto Sacco Anniversary perché l'azienda compie il novantesimo anno di attività abbiamo appena presentato una carabina Safari di alto livello dotata di valigetta in pelle e accessoristica lusso in calibro 416 Rigby, 450 Rigby e addirittura 550 per gli amanti della caccia grossa, la caccia africana. Naturalmente questo tipo di carabine sarà disponibile in circuiti selezionati ad esempio nella nostra galleria di Milano. Grazie Silvia, davvero interessante questa abbinata dell'Ottica Burris con le carabine Sacco e Tica, lo teremo presente. Grazie in bocca al lupo.